Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. Esprimo grande soddisfazione per la scelta operata dal consigliere comunale del Comune di Gela, Carmelo Casano, di aderire al nostro partito Udc e al grande progetto di ricostituzione di un centro, luogo politico dei moderati, rappresentato dall'area popolare nazionale, frutto della condivisione degli ideali politici. E' il messaggio del segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, pervenuto proprio nel momento in cui a Palazzo di Città si sta ufficializzando il passaggio di Carmelo Casano all'area popolare nazionale, alla presenza di Esther Bonafede. C'eravamo anche noi, sentiamo. Oggi con grande soddisfazione accogliamo l'adesione del consigliere Carmelo Casano, importante, significativa, perché il consigliere di cui conosciamo la storia, amato sicuramente perché il suo successo è la prova del suo consenso, ha deciso di aderire a questo progetto importante che vede la ricostituzione dell'area popolare, che discende dall'intenzione nazionale e chiaramente ha in questa regione nostra una grande adesione. Dunque, il progetto ambizioso dell'area popolare nazionale è quello di riunire tutte le anime all'interno dell'Udc, è questo che volete fare anche all'interno del nostro Consiglio Comunale? Soprattutto il centro, che è sempre stato il luogo in fondo della dialettica, e quindi ci sono tante anime che lo compongono, però la dialettica è il principio di democrazia. Posso avere al suo interno un dibattito, ma che ci sia divisione, questo è assolutamente da escludere, la divisione è debolezza, è indebolimento. Sull'Unione proprio vorrei che non ci fosse dubbio. Il vostro è un progetto, ci sembra di capire, nazionale. E Gela che ruolo avrà in questo progetto nazionale? Allora, partiamo proprio da Gela. Oggi è un giorno significativo, perché Gela è sempre stata, e voi ovviamente che ne siete l'estensione, un luogo di grande contesa. Non solo geograficamente, ma l'appetibilità di Gela da sola rappresenta il cambiamento. Noi potremmo e vorremmo essere significativi, partire da qua per dire quanto è importante la legalità, ma quanto i siciliani hanno bisogno di essere liberati, molto. Da nove mesi sono indipendente, quindi già questo addio è avvenuto, si è concretizzato il passaggio. Oggi aderisco a un progetto nazionale, dove vede tutti i moderati e i popolari che stanno cercando di fare un percorso per l'Italia, per riunire queste persone che credono nella famiglia, credono nei valori, credono nel popolo e credono nel lavoro. Quindi questo progetto per me oggi trova molto entusiasmo, anche perché da incontri avuti a Roma, anche con Maria Moro, nonché la figlia di Moro, mi convigge molto di più, perché guarda anche a sinistra questo progetto e quindi ricordiamo che il stasista Moro negli anni è stato colui che il primo iniziò a dialogare con la sinistra. Voi siete area popolare nazionale, dovete adesso cominciare a avviare un dialogo con gli altri componenti dell'area di centro, primi fra tutti i componenti dell'Udc. Primi da tutti i componenti dell'Udc il dialogo c'è, perché abbiamo anche un comunicato dell'onorevole Cesa, che è il segretario nazionale dell'Udc, che parla di questo progetto. È un progetto ampio, dove l'Udc sarà proprio uno dei primi partiti a condurre questa nuova avventura, dove sarà un'area di centro, che in Italia c'è tanto bisogno di area di centro. Parliamo adesso del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione. La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle è stata approvata in aula consigliare. La giunta messinese, dicono i grillini, non può più nascondersi e si attivi presso le istituzioni competenti per avviare le procedure di reperimento dei contributi da far valere sul FEG. Vediamo. Dopo quattro mesi di attesa, la mozione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione è arrivata nell'aula del Consiglio Comunale. Era stata depositata a gennaio, poco prima di partire per Roma e manifestare dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Adesso la Siste Civica l'ha approvata in maniera corale e finalmente l'amministrazione è stata politicamente impegnata ad avviare le procedure per reperire i fondi collegati a questo importantissimo strumento di sostegno comunitario. Lo dicono in una nota i consiglieri grillini Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. Il FEG è un fondo europeo che consente ai territori in crisi di poter avviare politiche attive di sostegno al lavoro, quindi non mero assistenzialismo passivo che rende i lavoratori schiavi delle promesse di una politica distratta, ma uno strumento concreto che finanzia, tra le altre cose, la formazione dei lavoratori per nuove attività e l'apertura di nuove imprese. In parole povere, il FEG consente di determinare sviluppo creando attività imprenditoriali e formando i lavoratori per rispondere alle esigenze di queste nuove attività. Dobbiamo essere veloci, continuano i grillini, l'amministrazione ha il dovere di stimolare la regione affinché lo Stato si attivi per far arrivare questi finanziamenti a Gela. Finora abbiamo assistito a tante chiacchiere, tutte puntate su presunti investitori, tanto parlare in attesa che Leni faccia qualcosa, tante parole in attesa del nulla. Dobbiamo cambiare strada, sottolineano i componenti del Movimento 5 Stelle, dobbiamo diventare i fautori del nostro futuro. Noi gelesi, per prima, dobbiamo fare imprenditoria nel nostro territorio senza aspettare che altri elargiscano la loro elemosina. Se il lavoro rende davvero liberi, allora abbiamo il dovere di impegnarci per crearlo questo lavoro, senza aspettare che siano altri a portarcelo. La Giunta Mersinese non può più nascondersi, si attivi presso le istituzioni competenti per avviare le procedure di reperimento dei contributi da far valere sul FEG. Dimostri, continuano ancora i grillini, di non essere succube del sistema legato all'attesa che Leni conceda qualcosa. Continuiamo ad applicare il programma che abbiamo presentato ai cittadini, coerenti chiudono con il nostro mandato elettorale. Saranno presentate domani alle 18 nei locali dell'Ona l'Osservatorio nazionale Amianto in corso Vittoria Emanuele 168 a Gela, le ultime iniziative a tutela e difesa dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie e le linee di azione per il coinvolgimento di tutte le forze politiche e istituzionali affinché venga trattata e risolta la problematica Amianto. Lo comunica il Presidente Salvatore Granvillano. Sarà Iolanda Guttadauro, funzionario del Ministero del Lavoro, la relatrice della conferenza di battito organizzata dal Lions Club del Golfo di Gela, presieduto da Eugenio Piazza, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, la ConfCommercio e l'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Gela. L'iniziativa si terrà sabato 21 maggio alle 18 nell'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo di Gela. Il tema è le politiche attive del lavoro, versione 2.0, la riforma dei servizi per il lavoro da garanzia giovani al Jobs Act. È stato presentato oggi a Gela il progetto di Life più Green Wolf, cofinanziato dalla Comunità Europea. L'iniziativa ha avuto lo scopo di dimostrare la fattibilità della conversione di scarti di lana in fertilizzante ammendante usando un impianto di idrolisi locale. Sentiamo. Dallo scarto di lana che cosa possiamo ottenere? È un progetto assolutamente innovativo? Sì, è un progetto innovativo perché dagli scarti di lana possono essere trattati con un processo di idrolisi verde e trasformati in un fertilizzante organico adatto all'agricoltura biologica. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo fertilizzante? Allora, questo tipo di fertilizzante si pone, diciamo, in alternativa ad un fertilizzante chimico e dagli analisi abbiamo capito che è un fertilizzante che è ricco di biostimolanti, è ricco di azoto, di carbonio che sono gli elementi essenziali per il nutrimento delle piante. È efficace quanto un fertilizzante chimico che naturalmente la scienza negli anni ha dimostrato assolutamente dannoso per la nostra salute? Allora, dai primi risultati che sono stati fatte delle prove in laboratorio, poi delle prove in vaso e attualmente stiamo facendo delle prove in campo di sperimentazione perciò del fertilizzante su piccoli frutti e su vite, si stanno ottenendo dei buoni risultati. Certamente bisognerà aspettare a settembre-ottobre perché siamo adesso in una fase di concimazione e vedremo appunto i risultati comparandoli a dei fertilizzanti chimici. Una grossa fetta delle risorse comunitarie nei prossimi anni sta dentro la strategia dell'innovazione che è stata presentata un paio di settimane fa al Dipartimento regionale e mette assieme sia il sistema delle piccole imprese tradizionali, sia le piccole e medie imprese del campo dell'agricoltura e beni culturali, del turismo, inducendo loro a processi di innovazione, di processo, di prodotto, di relazioni, di marketing per renderle competitive nel mercato. Noi dobbiamo intercettare sempre più fondi e esperienze per far crescere anche il livello culturale delle nostre imprese e per convincerle che tutto ciò è possibile. Pensare di poter utilizzare anche lo scarto della lana fa riflettere, cioè dovremmo forse ripensare a quei vecchi mestieri come l'allevamento, dall'allevamento si possono ricavare davvero tantissimi prodotti. Innovazione, ricerca e artigianato si fondono assieme. La logica ovviamente sta nel recupero dei prodotti di scarto, quello che si faceva storicamente in maniera usuale, oggi invece diventa di carattere innovativo trovando nei prodotti di scarto elementi di alta qualità. Questo è il caso dell'utilizzo delle lane di scarto, che sono dei fertilizzanti trattati con dei processi non chimici, quindi biologici, dei fertilizzanti ad alto valore aggiunto, con dei biostimolanti atti ad accelerare i processi di fertilizzazione nelle culture. L'ottica dell'amministrazione è incentivare, sostenere tutte quelle che sono le attività in cui la ricerca, l'innovazione si fondano con le attività produttive per cercare di cambiare e segnare il passo del cambiamento in un territorio che ha bisogno di rinnovarsi, di innovarsi in maniera rapida è costante. Il progetto presentato oggi ridurrà i costi di trasporto sia di lana che di fertilizzante ed eliminerà il lavaggio e lo smaltimento delle lane grossolane. Sentiamo. Rispetto al passato la lana non ha più il mercato di una volta, magari gli allevatori si concentrano, come diceva lei, su prodotti che vanno a finire nella grande distribuzione, mentre la lana è un rifiuto speciale che deve essere smaltito. Ovviamente lo smaltimento si basa su delle procedure abbastanza onerose e purtroppo gli allevatori non sempre utilizzano queste procedure e quindi si crea il problema dell'inquinamento. Noi vogliamo fare leva su questo problema per cercare di dare un'alternativa a questo rifiuto per far sì che diventi una risorsa per il territorio. Naturalmente il nostro principale obiettivo è ridurre i costi ambientali che la lana dà come scarto e quindi noi intendiamo anche ridurre i costi di trasporto e speriamo di poter dislocare in varie località siciliane e con l'aiuto magari delle amministrazioni locali eccetera possiamo anche dislocarci in posti come Gela che ci ha invitato e ha voluto fortemente questa iniziativa qui e quindi anche in altre località che saranno disponibili. Si chiama Anime Antiche. L'evento culturale è in programma domani a Gela alle 19.30 alla chiesa San Biagio. La performance promossa dall'associazione Assuari dal Circolo Arci le Nuvole e da Demia di Catania è costituita da otto monologhi composti dal poeta Sebastiano Pataneferro, otto personaggi interpretati da altrettanti poeti. Domani alle 17.30 presso il Teatro Eschilo di Gela si terrà il convegno distrettuale della FIDAPA, il talento delle donne nell'editoria Elvira Sellerio, un'orafa che forgia gioielli di carta. L'iniziativa è promossa dalle vicepresidenti delle sezioni di Caltagirone, Caltanissetta, Gela, Niscemi e Serra di Falco. Il convegno vuole essere momento di ricordo di una delle personalità più brillanti della cultura siciliana dell'ultimo secolo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sono stati prorogati termini di scadenza del bando per l'assegnazione di contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo. Relativo all'anno scolastico 2015-2016, lo ha reso noto l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Gela, Licia Abela. Il termine per la presentazione delle domande di buono libro viene posticipato fino al prossimo 30 maggio. I moduli di domanda vanno ritirati negli uffici dell'istituzione scolastica frequentata dallo studente interessato o scaricati sul sito del Comune di Gela www.comunegela.cl.it. Continuano le iniziative inserite nel calendario La Primavera dell'Arte, giunta alla sua quarta edizione, promosse dal gruppo archeologico d'Italia Gelo e Trischelion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Sabato 21 maggio alle 21 alle Mura Timo Leontè chiusura con la Notte Europea dei Musei, le Mura di Notte. Incontro conclusivo oggi del progetto Giochi Sicuri destinato agli alunni delle terze e quarte della scuola primaria dell'Istituto Suor Teresa Valse di Macchidella. Il progetto si è articolato con la distribuzione agli studenti di un opuscolo contenente disegni in bianco e nero che riproducono momenti di vita quotidiana, in alcuni casi potenzialmente pericolosi per la salute, con brevi spazi lasciati liberi sotto disegni per un eventuale commento da parte degli alunni stessi. Gli alunni hanno commentato e colorato i disegni. Alla fine dell'opuscolo si trova uno spazio libero dove gli alunni stessi hanno descritto un'esperienza personale o appresa dalla stampa o altra significativa da raccontare in tema di prevenzione di incidenti nell'ambito degli ambienti di vita. Qual è la situazione raffigurata nell'opuscolo che ti ha maggiormente colpito e perché? A me mi ha colpito la situazione della bici che i due ragazzi si giravano e non hanno fatto attenzione al sasso. Io ho scritto come esperienza che era pericoloso perché poteva cadere e rompersi la testa con la pietra. La maggior parte che mi ha colpito di questo opuscolo Giochi Sicuri è stato del bambino che puntava il fucile all'altro bambino e poteva essere pericoloso perché poteva ucciderlo, poteva partire un colpo perché senza la sicura è pericoloso. I ragazzi sono stati interpellati dall'ASL nella persona del dottor Migliore che naturalmente ogni anno viene a fare la sua relazione, poi i bambini realizzano anche sia dei disegni sia completano degli opuscoletti dove verifichiamo anche le loro competenze e poi naturalmente attraverso l'osservazione ci rendiamo conto se quanto hanno appreso poi viene realizzato nel loro quotidiano. Il progetto è stato realizzato da Salvatore Migliore, direttore dell'unità operativa di epidemiologia delle malattie cronico-degenerative del distretto sanitario di Gela assieme alle docenti. È importante che si inizia a quest'età a parlare di sicurezza negli ambienti di vita proprio attraverso il gioco. Non sono anni che facciamo questo tipo di lavoro e abbiamo trovato un particolare scontro in questa scuola perché addirittura si sono fatte delle simulazioni e quindi questo è molto importante per apprendere il concetto della sicurezza che poi viene trasportato anche negli ambienti di lavoro. Dobbiamo dire fra l'altro che nel piano aziendale il nostro direttore generale ha previsto la direttiva che è quella della regione di attenzionare appunto la prevenzione degli infortuni e quindi dare quelle indicazioni che sono utili per poter assumere degli atteggiamenti corretti. Parte a Gela la campagna di sostegno per la raccolta fondi Teleton. Il gruppo scout Gesci Gela 5 in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia sabato 21 e domenica 22 maggio prossima all'estiera dei banchetti dinanzi alla parrocchia per la distribuzione di eleganti confezioni di biscotti che sosterranno l'iniziativa. Festa di Santa Rita domenica 22 maggio a Gela. Alle 19 è prevista la Santa Messa in piazza Sant'Agostino presieduta dal vescovo della diocesi di piazza Armerina Rosario Gisana. Dopo la messa si terrà una breve processione attorno alla piazza. La mattina le messe saranno celebrate alle 8.30, 9.30, 10.30 e 12.00. Dopo ogni messa si svolgerà la benedizione delle rose che saranno portate dai devoti. Adesso parliamo di teatro. Questa sera all'Eschilo rappresentazione di una commedia di Nino De Maria da parte degli alunni del liceo classico Eschilo di Gela diretto da Gioacchino Pelliteri. Vediamo. Una scuola che si mette in gioco attraverso il teatro. Dalla liceo classico Eschilo al teatro comunale Eschilo. Appuntamento questa sera alle 21 con la commedia in tre atti e se capetassettia di Nino De Maria. Sul palco gli alunni di varie classi dell'istituto diretto da Gioacchino Pelliteri. La commedia è molto attuale sebbene sia stata scritta negli anni 70 circa. Diciamo che la scelta è stata molto naturale perché le risate sono assicurate. Vi siete preparati bene? Certo. Dopo un anno comunque di prove dovrebbe andare bene. La regia è affidata a Giuseppe Felici. Con gli alunni abbiamo lavorato tutti i pomeriggi, è stata un'esperienza formativa, ricchente e abbiamo avuto modo di poter crescere sia dal punto di vista didattico ma anche dal punto di vista delle emozioni. L'attività è appunto quella di far diventare gli alunni sempre più disinibiti e quindi poter affrontare un pubblico, poter argomentare, poter svolgere conferenze eccetera eccetera. Con Felici hanno collaborato Sonia Zaccaria, Daniela Fiandaca e Rita Salvo. Quanto è importante che la cultura arrivi dalla scuola. È importante perché dà la possibilità di affinare il senso civico, il senso morale, appunto dal punto di vista intellettuale ma anche dal punto di vista umano. L'ingresso questa sera è gratuito. Siamo allo spettacolo. Sabato 21 maggio alle 9 sarà proiettato al Cinema Antidoto con ingresso libero il film La Storia di Loretta, un atleta speciale. L'iniziativa promossa dall'associazione sportiva Orizzonte Gela, preseduta da Natale Salucci, ha una valenza culturale e sociale. Vuole far conoscere valori più di special Olympics e invitare i gelesi a scendere in campo e a giocare la partita dell'integrazione per concretizzare azioni realmente inclusive, riconoscendo e valorizzando le diversità. Sempre sabato all'antidoto di Macchitella alle 21 sarà proposto attenti a quei due, con Emanuele Giammusso, Guglielmo Greco e Lori Ardore. Le proiezioni cinematografiche sono state sospese e riprenderanno a settembre. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie per averci seguito.